Ciao a tutti, come scegliere davanti ad un bivio in amore? Bene, prima di affrontare questo tema ti ricordo gli appuntamenti di Torino venerdì 24 gennaio 2020, ora 20.45, col mio seminario dal tema Se soffri non è amore, come conquistare la persona giusta. E' il seminario di domenica 1 marzo 2020 a Milano dalle 9.30 alle 19 full immersion con seminario dal titolo Autostima e seduzione in amore nel lavoro, riferimento a 333 15 11 703. Ricordo che se non puoi seguire i corsi per lontananza, ad esempio puoi abbonarti al canale Massimo Terramasco andando semplicemente sulla home page del canale Massimo Terramasco e qui vicino al tastino iscriviti e qui ti trovi il tastino abbonati, ti abboni e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. E veniamo al tema, al tema, come scegliere davanti ad un bivio in amore? Allora, la vita ci mette spesso davanti in amore a due direzioni, normalmente una direzione, la strada vecchia, diciamo così, la relazione vecchia e talvolta viene fuori una relazione nuova, cioè può capitare che ci si innamora follemente magari di una persona nuova e allora dobbiamo tenere presente che quando ci si innamora non si ragiona. L'amore mette un po' come le fettine di prosciutto sugli occhi, non riesce più a vedere bene le cose come vanno e praticamente è ovvio che scegliere l'uno, ad esempio una situazione, significherebbe eliminare l'altra. Oppure cercare di tenere i piedi in due scarpe, ma tenere i piedi in due scarpe comunque sappiamo che è spesso fonte di stress, è spesso fonte di sofferenza. Quindi scegliere tra lui, tra virgoletto, lei insomma, e l'altro o l'altra è un dilemma che può lacerare. Perché vengono fuori i sensi di colpa? Magari una moglie può, poteva credersi, una moglie devota, una madre premurosa, e però quando subentra dentro di te, diciamo, un nuovo amore, una nuova situazione, beh, diventa difficile, anche perché poi magari spesso ti innamori di una persona che è una canaglia, diciamo così, che tra virgolette poi non è che ha dimostrato nulla. E allora come si può scegliere in questi casi qual è la cosa migliore da fare? Non è che si può mettere lì a tavolino e decidere una cosa o l'altra. Beh, la cosa migliore non è scegliere l'uno o l'altro, non devi scegliere per forza subito. Puoi scegliere di non scegliere, ma che non vuol dire tenere i piedi in due scarpe, vuol dire che devi imparare a stare con te, e devi imparare a vedere quelli che sono le tue emozioni, quelle che sono le tue sensazioni. Dentro di te, nel profondo, c'è un insegnamento, dentro di te c'è una situazione che è chiara. L'oscurità è soltanto esterna, dentro di noi c'è sempre la chiarezza, soltanto che a questa chiarezza ci dobbiamo arrivare. E per arrivare a questa chiarezza dobbiamo decidere di utilizzare la nostra parte più profonda. Possiamo utilizzare l'immaginazione, quando sei appena svegliato al mattino, prima di andare a dormire la sera, chiudi gli occhi, entra, diciamo, dentro di te. Puoi immaginare il luogo, il porto sicuro dove andare, come un luogo per te abituale, dove sei stato spesso, dove ci puoi andare tranquillamente, può essere una spiaggia, un isolo, un bosco, un mare, un qualunque cosa, una casa, una stanza, qualunque cosa, e in questo luogo inizia a vedere che possono aprire delle immagini, puoi incontrare la tua parte saggia. E allora puoi fare delle domande, puoi fare delle domande e le risposte al momento giusto ti verranno. Ti verranno, ma tieni presente che soltanto quando verranno risposte dal profondo, queste saranno il tuo vero seme. E allora lì potrai effettuare la vera scelta. La scelta in questi casi non è un farla a tavolino, i pro e i contro di una persona, che cosa è meglio, di cosa è peggio, perché in questo caso non riuscirai ad ottenere alcun risultato. Invece se ti lasci andare tranquillamente dentro te stesso, apparirà un'immagine, apparirà una risposta e potrai finalmente fare una scelta. Non è che ci vuole molto tempo, non è che devi prendere tempo per fare una scelta. Il tempo giusto è il tempo che ci vuole, diciamo così. Non devi aspettare un secondo di più. Nel giro di poche settimane, un mese, due mesi, quello che è, ti verrà fuori chiaramente una risposta. Allora quella sarà la risposta giusta, sarà la scelta giusta. E una volta imboccato la strada, diciamo, quella strada lì, poi potrai modificare tutto, però sarà l'inizio di una tua nuova vita. Che sia con il vecchio partner, e allora deve essere l'inizio di una nuova relazione con il vecchio partner, perché se sei arrivato al punto di dover decidere, perché qualcosa evidentemente non andava, qualcosa non funzionava. Quindi ci sarà una nuova strada, ci sarà una nuova possibilità, e questo devi giocartelo sicuramente. E se invece sarà la strada nuova, beh, devi affrontarla con, diciamo, con distacco dal risultato, senza fare paragoni col passato e rendendo di conto che le cose poi potranno modificarsi, potranno cambiare, insomma. Però l'unica cosa fondamentale è non avere mai rimpianti, mai rimorso. Una volta che la scelta viene dal tuo profondo, è perché ti porterà sicuramente da qualche parte, perché ti consentirà di raggiungere dei risultati positivi nella tua vita, con miglioramento come persona, sicuramente. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo gli appuntamenti di Torino, venerdì 24 gennaio, ore 20.45, con il mio seminario dal titolo Se soffri non è amore, come conquistare la persona giusta, riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo il seminario di Milano, domenica 1 marzo, ore, full immersion dalle 9 e 30 alle 19, per il seminario dal titolo Autostima e seduzione in amore nel lavoro, riferimento 333 15 11 703. Ciao a tutti.